Buongiorno, allora intanto mi voglio scusare se non ci sono stata in tutto questo periodo ma con il fatto del lavoro e poi questa grandissima novità che poi vi dirò mi ha tenuta praticamente occupata quasi tutto il tempo quindi non è un po' anche il fatto della presima perché come sapete la devo fare quindi mi volevo scusare intanto comunque la novità è che mi hanno dato il mutuo c'è sì quindi ho alla casa comunque appena il 15 devo andare in banca da mio papà perché devo firmare poi tutti i fogli così prendo anche le chiavi fatemi sapere anche se voi volete il video haul di tutte le cose che ho comprato e comprerò oppure se volete vederle così proprio random in un video vlog o se me lo sapete appunto con un commentino qui sotto a questo video e niente praticamente nella casa sicuramente me lo chiederete se devo comprare tutto? No, non devo comprare tutto, devo solo comprare il letto, lavatrice e televisione, le cose un po' più costose diciamo perché comunque praticamente mi lasciano tutto l'arredamento, loro si portano via solo il letto, il cassettone e i lettini dei bambini, dei loro figlioli insomma ecco quindi poi il resto mi lasciano tutto mi lasciano tutto a me comunque appena ho le chiavi vi farò vedere anche l'asa fatemi sapere se volete già vederla anche così appena ho le chiavi oppure se volete proprio il video l'home tour di tutta la casa ovviamente però quando l'abbiamo sistemata tutta perché chiaramente dobbiamo abbiancare e poi sistemare un po' di cose insomma fatemi sapere se volete già vederla oppure volete l'home tour con niente di che adesso da un po' di giorni sto mangiando questi qua ovviamente sono, è uno snack, dentro c'è mandorle, cocco, cioccolato fondente, arachidi e cranberries non so che quale sia comunque praticamente se mi viene un po' di fame mangio due di quelli lì perché siccome devo perdere diversi chili perché fra due mesi ho un matrimonio quindi devo entrare nel vestito e francamente ho un po' di pancetta da quando ho smesso di fare tutti gli sport che facevo e niente comunque fatemi sapere anche se volete il video dove vi racconto di tutti gli sport che ho fatto di quello che, delle mie esperienze ecco insomma e niente nel frattempo è arrivato anche il mio passerottino ma amore mio ma amore mio non ci fanno vedere i dentini non ci fate caso se fa vedere i denti ma non morde assolutamente ringhia ma non morde comunque adesso devo ricopernare tutta questa roba questo è il mio pranzo di oggi questa roba c'era già da un po' da ieri cioè oggi fa veramente caldo giornata stupenda spettacolare come in tutti questi giorni guardate c'è qualche nuvoletta un po' quella ma niente di che però fa caldo non mi ricordo se era ieri no sia ieri l'altro che ieri ma anche mercoledì giovedì insomma da quando è bel tempo insomma ecco ovviamente la macchina mi dà fra i 35 e i 37 gradi se sta al sole e niente e queste sono le novità e mi lasciano anche tutti i mobili che ci sono anche in cantina della casa mi ero scordata di dirvelo comunque ah e poi c'è un'altra novità proprio in qua sicuramente perché ora come ora non ho le possibilità per farlo mi farò cioè in arrivo un altro tatuaggio ovviamente non so bene ancora quando però poi appena e poi devo finire di decidere due cosine anche sul casaccio appena ho deciso un po' come farlo insomma vi faccio vedere poi il disegno oppure ve lo raccoglico ora vediamo un po' e niente fatemi sapere se avete il video haul delle cose che comprerò e te ho già comprato oppure se volete che ve le faccio vedere nel video vlog nel prossimo video vlog scusate per i miei capelli ma li sto facendo asciugare così li ho lavati e francamente usare il forno è proprio già fa caldo quindi non lo uso nemmeno poi dopo una sistematina mi sotto gli occhi però prima rigoverno e poi mi finisco di sistemare perché poi alle 6 diventare anche a lavoro e ah vi volevo fare vedere anche la pianta che abbiamo regalato io e il mio ragazzo a mia suocera è un po' secchina già però insomma ve la faccio vedere perché è meglio abbiamo regalato l'ortensia a parte qui e qua che sono già secchi però ovviamente era tutta così all'inizio praticamente bellissima era tutta così poi questa quella che avevo messo anche la foto su instagram della piantina del battismo di mia nipote mentre questa qui abbiamo comprato a Ikea quando abbiamo comprato tutte le cose per la casa ma questa non è una cosa per la casa cioè per la casa qui di mio ragazzo no per la nostra casa e niente cioè voglio farvi vedere in casa quanti gradi sono in casa sono la bellezza di 24 gradi e mezzo alle 1 e 20 cioè è veramente veramente caldo comunque praticamente la televisione e la lavatrice che volevamo comprare noi quelle praticamente quelle che ci mancano sono queste qui che adesso vi faccio vedere allora la televisione siamo indecisi fra due praticamente sono o questa 49 pollici o se no questa 55 praticamente noi volevamo questa quella 55 però non era questa qui no sì forse era questa non mi ricordo comunque bene mentre poi c'era la lavatrice la lavatrice ora appena riesco a trovarle che eccole qui volendo ci sono anche queste qua anche queste qua a 200 euro perché addirittura questa qui della candy c'è anche il non lo metto a fuoco vabbè ovviamente lo smart touch questa qua ovvero che la programmi dal dal telefono però quella che volevamo noi era questa qui della samsung 9 kg la più 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 meno 40 che veniva 7,49 però viene scontata 4,99 però con la promozione appunto da 1 euro che praticamente il il secondo lo paghi la metà almeno caro insomma vabbè verrebbe 2,50 la lavatrice mentre la televisione 7,99 adesso vediamo un po' perché non dobbiamo comprare anche il letto che l'abbiamo trovato su internet perché praticamente non possiamo mettere la struttura ma bensì dobbiamo mettere solo la rete perché con la struttura compresa non ci entra in camera sennò poi dopo non possiamo aprire l'armadio che lo abbiamo con le ante fatto in quella maniera laggiù e quindi niente dobbiamo mettere la rete che abbiamo trovato su internet che ci viene 213 euro con la spedizione compresa ma poi mentre per il materasso lo facciamo fare su misura appunto perché lui è alto 1,95 e già in questo suol questo qua lui non ci entra questo qua questo che è 1,60 se non sbaglio per 1,90 che non c'entra lui perché lui appunto è 1,95 dobbiamo farlo fare su misura e niente io vi mando tanti tanti baci mi raccomando fatemi sapere se volete il video video tutte le cose che ho comprato poi comprerò o se volete semplicemente ve le faccio vedere così un po' random nel prossimo video vlog fatemi sapere anche poi se volete dire l'home tour quando avrò le chiavi oppure se volete già vederla così anche se è un po' scombinata vi rimando tanti altri baci tantissimi baci e ci vediamo al prossimo video ciao ciao